Un'auto si ferma davanti a un bar e due uomini si scambiano un involucro ai banconote. Una scena che non è passata inosservata ai carabinieri di Castel San Giovanni, impegnati ieri pomeriggio in attività di controllo del territorio. I militari sono quindi entrati in azione, arrestando un 31enne nato in Marocco ma residente in provincia di Piacenza, perché colto in flagranza mentre spacciava sostanze stupefacenti. Ad insospettire i carabinieri è stata la vettura in sosta con a bordo due uomini che, dopo aver scambiato qualche battuta, si sono passati droga ai banconote. Il 31enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, aveva appena consegnato a un connazionale di 42 anni circa due grammi di hashish. Addosso il pusher aveva altra droga, circa un grammo e mezzo di eroina e quattro dosi di cocaina, oltre ad altri due grammi di hashish. Il 42enne è stato quindi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre lo spacciatore è finito in manette. Droga e denaro sono stati sequestrati. Grazie. 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 Grazie.